Giornata importante, quella di ieri per l'Aquila Calcio, che ha ricevuto la visita della campione del mondo della nazionale italiana del 2006, Simone Perrotta, arrivato in città accompagnato da una delegazione composta tra gli altri da Stefano Ghisleni, responsabile dello Junior Camp dell'AIC e della Scuola Calcio della Sampdoria, e da Franco Fanali, direttore generale di CEPU. L'incontro è servito per visitare il New Campus di Preturo, quartier generale della nuova Accademia del Calcio della città di L'Aquila. L'ex centrocampista della Roma Perrotta, da poco eletto vicepresidente del settore giovanile scolastico della FIGC, si è detto molto soddisfatto delle nuove strutture che ospitano il settore giovanile rosso-blu. Quanto è importante avere un vivaio per una squadra di Lega Pro, un serbatorio da cui attingere? Sì, ma non solo, è importantissimo non solo per la Lega Pro, io credo che non avendo più la disponibilità economica come magari si aveva un tempo, dove rispetto alle grandi europee il divario economico si è allargato notevolmente, credo che il settore giovanile sia un serbatorio da dove attingere e dover crescere i propri campioni. A fare gli onori di casa ci ha pensato il patron dell'Aquila Calcio, Corrado Chiodi. Come potete ben vedere insomma l'impegno ce n'è tantissimo, la voglia di continuare anche a fare veramente un settore giovanile importante dove possono uscire magari in futuro chiaramente investimenti a lungo termine anche dei ragazzi bravi che possono e sì entrare nella prima squadra ma anche in tutto il territorio nazionale. Infine non potevano mancare le riflessioni del presidente dell'Accademia Aquilana, Fabrizio Rossi, che ai nostri microfoni snocciola un po' di numeri. La struttura è composta da due diciamo palazzine dove ci sono 18 appartamenti dove i ragazzi alloggiano, due o tre per stanza stanno lì con un minimo appartamento dove hanno anche la zona diciamo lavanderia, quindi ognuno avrà la disposizione una lavatrice per gli allenamenti e quant'altro per avere tutto diciamo l'abbigliamento settimanale. Poi abbiamo una parte diciamo della della mensa dove i ragazzi insieme mangiano, usufruiscono anche dello studio quindi hanno tutti i parti comuni dove loro possono stare durante la giornata dove la mattina però vanno a scuola, il pomeriggio rai nei campi e prima di andare a cena insomma stanno tutti insieme.